Salve a tutti e ben ritrovati da Tenori Informatico. Mi è stata fatta una richiesta un po' particolare e mi hanno chiesto se è possibile tradurre un video in lingua inglese in lingua italiana. Ovviamente non è possibile tradurre l'audio di un video in lingua italiana perché non esiste un'applicazione o un software che lo permetta. A meno che se voi sapete che esiste, fatemelo sapere qui nei commenti. Comunque, su YouTube ho trovato un piccolo trucco, un sistema per riuscire a tradurre il parlato in inglese oppure in altre lingue in testo, in italiano. Vi faccio vedere quello che ho scoperto io. Andiamo in Chrome. Nelle estensioni per Chrome dovete scaricare l'estensione traduttore. Io l'ho già fatto e ho installato Google Traduttore. Una volta fatto andiamo su YouTube poi cerchiamo un video qualsiasi in lingua inglese o se preferite in altre lingue entro nel canale di questo YouTuber famoso metto un video qualsiasi e appare in lingua inglese infatti se io vado ad attivare i sottotitoli il testo è in inglese e non c'è la possibilità di selezionare un sottotitolo in italiano. Allora, quello che io sono riuscito a trovare il sistema che ci permette di leggere il video con i sottotitoli in italiano è questo. Vado a disattivare i sottotitoli che non mi servono poi qua vedete in basso a destra dove ci sono i tre puntini orizzontali clicco apro poi la trascrizione e qui a destra appare il testo in inglese di questo YouTuber mentre sta parlando quello che dobbiamo fare è andare in alto a destra cliccare Google Traduttore traduci questa pagina aspettate qualche secondo e la traduzione dall'inglese passa all'italiano vedete che adesso è leggibile in testo italiano e questo diciamo è un metodo che ci permette di sapere cosa sta dicendo quel determinato video in lingua inglese per ora è tutto vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima da Tenore Informatico Grazie a tutti